Un cordiale saluto dalla nostra redazione, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di politica perché nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Pescara, il coordinatore regionale di Italia Viva, nonché parlamentare Camillo D'Alessandro e Gianfranco Giuliante dell'Associazione Futura A hanno ufficializzato l'accordo in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, ovviamente per quanto concerne la nostra regione i dettagli nel servizio. Il movimento politico che fa riferimento a Gianfranco Giuliante Futura alle prossime elezioni politiche del 25 settembre correrà in Abruzzo al fianco di Italia Viva. Questa mattina a Pescara è stato sancito l'accordo che ha spiegato il coordinatore regionale del partito di Renzi Camillo D'Alessandro guarda al di là di centrodestra e centrosinistra. Quando siamo nati abbiamo dato vita in Abruzzo a patti civici, intendendo per questi l'allargamento della prospettiva di un partito che nasceva proprio per includere e non per escludere. In Abruzzo c'è uno straordinario spazio e il primo patto che noi sigliamo in vista delle elezioni politiche, ma non solo, è non solo un primo tempo, poi andiamo dritti verso la regione, e dare casa al tanto civismo che c'è in Abruzzo, che a volte fa vincere o il centrodestra o il centrosinistra, ma che poi rimane confinato all'interno del comune di appartenenza. Questo mondo aveva bisogno di una casa, vediamo che cosa succede a livello nazionale con l'evoluzione dell'accordo tra Italia Viva e Azione, ma nel frattempo noi facciamo il nostro lavoro qui sui territori perché dal territorio deve nascere una proposta. E' chiaro che c'è una domanda, la domanda c'è in Abruzzo e c'è in Italia, la domanda è il terzo polo, un voto dato a noi e un voto che scompaggina gli equilibri di centrodestra e centrosinistra, che potrebbe essere determinante per non far vincere nell'uno e nell'altro e per far tornare Draghi. Giulianto, reduce dalla presidenza tua, ha rimarcato i motivi dell'apparentamento, ma anche quelli che un anno fa lo hanno portato a lasciare il centrodestra. Quando, battendo la porta della Lega e denunciando l'inadeguatezza di una classe dirigente che non riusciva a farsi valere in Abruzzo, ho creato Futura dicendo che avremmo occupato uno spazio altrove rispetto al centrodestra e al centrosinistra. Mi sembra di poter dire che con la costruzione di questo terzo polo questo altrove in questo momento sia stato individuato. Futura si è configurata come una sommatoria di diverse esperienze civiche, di persone che hanno lavorato sul territorio, che affrontano giornalmente problemi e quella scelta di essere altrove rispetto al centro e rispetto al centrosinistra e al centrodestra naturalmente si è concretizzata con la scelta di tutta una serie di amministratori civici. E ora parliamo di scuole a circa un mese dal suono della prima campanella perché dal settore istruzione del PNRR sono in arrivo oltre 40 milioni e mezzo di euro per migliorare e innovare le classi e i laboratori degli istituti scolastici abruzzesi. Andrea Costantini Le scuole abruzzesi avranno oltre 40 milioni e mezzo di euro per innovare le proprie classi e implementare i laboratori digitali. Questa è la somma messa a disposizione dal settore istruzione del PNRR e assegnata nell'ambito del piano scuola 4.0, un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive e studenti più coinvolti e che stanzia a livello nazionale 2,1 miliardi di euro. In particolare per gli istituti abruzzesi sono in arrivo quasi 30 milioni di euro per le cosiddette Next Generation Classrooms e poi poco più di 10 milioni e mezzo di euro per le Next Generation Labs. I fondi sono stati assegnati attraverso un piano di riparto nazionale sulla base del numero delle classi di ciascuna scuola con una riserva del 40% a favore degli istituti scolastici delle regioni del Mezzogiorno. Circa le Next Generation Classrooms, ciascuna istituzione scolastica del primo e del secondo ciclo potrà trasformare almeno la metà delle classi attuali attraverso nuovi arredi facilmente posizionabili, attrezzature digitali versatili, la rete wireless o cablata. A scegliere come saranno disposti o articolati saranno le scuole. Il dirigente scolastico in collaborazione con l'animatore digitale e il team per l'innovazione potrà costituire un gruppo di progettazione che coinvolgerà progettisti, docenti e studenti per il disegno degli ambienti. Next Generation Labs si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado. Obiettivo è la realizzazione di laboratori in cui studentesse e studenti possano sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati, robotica, intelligenza artificiale, cyber sicurezza, comunicazione digitale. A questa azione sono destinati circa 124 mila euro ciascuno per i licei e circa 160 mila euro ciascuna per le scuole del secondo ciclo che abbiano almeno un indirizzo attivo di istituto tecnico o professionale. Si tratta di un intervento trasformativo concreto della nostra scuola che stiamo realizzando nell'ambito del PNRR, afferma il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, il più grande di questo tipo mai realizzato con risorse e tempi certi. Cambiamo pagina, parliamo della perdonanza celestiniana dell'Aquila perché sarà la visita di Papa Francesco atteso domenica 28 agosto per la messa solenne con l'Angelus in mondo visione e l'apertura della Porta Santa a caratterizzare la 728esima perdonanza celestiniana, la quarantesima dell'era moderna i cui programmi istituzionali e artistico sono stati svelati all'auditorium del parco dal sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, dal vice sindaco Raffaele Daniele e dal direttore artistico Leonardo Di Amicis. Il primo appuntamento istituzionale in programma è previsto venerdì 19 agosto alle 11 con l'inaugurazione della gradinata davanti alla Porta Santa. Domenica 21 agosto sarà riscoperta la statua Madonna con bambino di Saturnino Gatti restaurata, resa di nuovo fruibile a Collemaggio dopo 13 anni dal terremoto. Lunedì 22 agosto alle 18 in programma il passaggio di consegne tra i figuranti principali del corteo Dama della Bolla, Giovin Signore e Dama della Croce. Martedì 23 agosto sarà il giorno del corteo storico. Per i giovani ci sarà uno spazio ad hoc per Donanza Village. Martedì 23 sul piazzale di Collemaggio ci sarà il canto per la rinascita di Futuro e Pace con artisti del calibro di Diodato Roberto Vecchioni, Gaia, Tony Adley, Anna Foglietta, Daniele Pecci ed altri. Chiusura con Claudio Baglioni a Collemaggio il prossimo 30 agosto. E noi andiamo avanti, torniamo a parlare di eventi perché siamo a Chieti, perché sono state messe in campo tutte le precauzioni possibili per garantire la sicurezza della viabilità e dell'evento intero del Giova Beach Party che si svolgerà il 19-20 agosto a Vasto. Questa mattina in prefettura proprio a Chieti c'è stato il nuovo vertice sulla viabilità. Selenia Secondi. Ritocchi e precauzioni per la viabilità e per la sicurezza in vista della Giova Beach Party che si svolgerà il 19-20 agosto a Vasto. Nel corso del Comitato per l'Ordine e la pubblica sicurezza che si è tenuto questa mattina in prefettura a Chieti sono stati definiti i dettagli necessari a garantire una viabilità efficiente e snella con un occhio rivolto alla sicurezza e a tutte le precauzioni necessarie allo svolgimento dell'evento. Ieri intanto la Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo ha dato il via libera per l'allestimento dell'area concerti di fatto un parere positivo in vista del sopralluogo che il 19 agosto verificherà il corretto allestimento dell'area e della zona coinvolta dallo svolgimento del concerto. Sono stati messi a punto tutti gli aspetti che possono garantire la sicurezza via mare, via terra e via aerea? Esattamente, lei ha toccato il punto. Noi siamo partiti da prima di tutto le problematiche della sicurezza in senso generale che riguardano principalmente, come ha fatto il signor Questore, ha fatto bene a sottolineare l'aspetto principale che è quello del deflusso. Deflusso che rappresenterà il momento topico perché mentre l'afflusso avverrà in più su più ore il deflusso sarà tutti insieme che devono uscire. Quindi è lì che abbiamo focalizzato l'attenzione per quello riguardo ai sistemi di sicurezza. Sistemi di sicurezza che sono stati messi a punto dal piano di sicurezza che ha fatto l'avvocato mercogliando per conto del comune e poi messi a punto da quello che è il sistema che è il tavolo tecnico del Questore da qui in questi giorni verrà a breve messo a punto all'ordinanza di servizio. Gli sforzi sono stati notevoli, tutti hanno concorso in maniera esemplare, devo oserei dire. Sarà quindi un concerto in sicurezza? C'è un'ordinanza comunale che verrà adottata sia dal comune di San Salvo che dal comune di Vasto ovviamente per divieto tanto di alcolici durante il concerto e soprattutto di bottiglie di vetro. Quindi saranno attenti a evitare che anche nei supermercati, soprattutto lì, possano essere venduti alcolici o bevande in bottiglie di vetro. Sindaco, ieri un via libera e oggi questo comitato per la sicurezza. Vasto si prepara ad accogliere il Jova Beach Party. Un evento straordinario, bello, che rende ancora più grande la nostra città che è la città del benessere per chi ci vive e chi viene in villeggiatura. Un ringraziamento di cuore ma vero senso di gratitudine alle persone straordinarie dell'istituzione della provincia di Chieti, dal prefetto Sua Eccellenza Armando Forgiona a tutti i comandanti delle forze dell'ordine al direttore Shell. Una provincia che vanta persone straordinarie che riescono quindi a concepire nel massimo spirito di leale collaborazione un concerto meraviglioso. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Siamo a Pescara per parlare di cronaca. Le volanti della questura del capologo adriatico coordinati dal vicequestore aggiunto Varrasso Pierpaolo nel pomeriggio di ieri hanno salvato la vita ad un 56 anni colto da malore. Gli agenti hanno notato un uomo che mentre camminava sul marciapiede improvvisamente è caduto a terra, privo di sensi. Gli operatori sono intervenuti e vista l'assenza di battito cardiaco e lo stato di cianosi dell'uomo gli hanno praticato il massaggio cardiaco. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale dove è stato dichiarato definitivamente fuori pericolo. E noi restiamo a Pescara per parlare di politica amministrativa perché con una lettera aperta il sindaco del capologo adriatico Carlo Masci ha chiesto di accelerare l'iter per la nascita della nuova Pescara rivolgendo un appello anche agli amministratori dei comuni di Spoltore e Montesilvano. Accelerare l'iter per la nuova Pescara lo ha ribadito ancora una volta il sindaco del capologo adriatico Carlo Masci che con una lettera aperta ha voluto spiegare i motivi che lo hanno spinto a rilanciare la fusione dei tre comuni per dar luogo alla città metropolitana come sancito anche dalla legge regionale e dalla volontà del 70% dei residenti di Pescara, Spoltore e Montesilvano. Ho cercato di buttare un sasso nello stagno perché mi sembra che ci sia un po' di rilassamento rispetto ai tempi della nuova Pescara. Penso che sia giusto che questo termine finisca perché il referendum c'è stato nel 2014, ci sono passati già troppi anni e alla scadenza del 2024 saranno passati 10 anni. È ora di creare le condizioni affinché la nuova Pescara nasca. Sappiamo tutti che abbiamo avuto due anni e mezzo difficili con il Covid, quindi i comuni, i sindaci si sono dovuti occupare di altro e di cose di cui non si erano mai occupati. Però adesso che la situazione si è attenuata dobbiamo cogliere quell'obiettivo. Credo che la scadenza del 2024, quella stabilita dalla legge come ultima ipotesi, sia una scadenza che può essere rispettata se tutti quanti lavoriamo nella stessa direzione, con convinzione, con determinazione, con voglia di fare. È importante cominciare a mettere insieme dei servizi, ma soprattutto è importante lavorare sulle nuove condizioni della città, nel senso che per quanto riguarda i servizi che la nuova città dovrà erogare, è necessario che ci sia chi studi come poterli erogare, partendo da quello che c'è nei singoli comuni e per arrivare ad una sintesi che è la scelta di come sviluppare in termini di servizi la nuova realtà che nascerà e che sarà una realtà di circa 200 mila abitanti. Andiamo ancora avanti e con Ania Cantagalli ci spostiamo a Teramo perché è stata bonificata l'area nei pressi del distributore di benzina di Piano Daccio. Un buon esempio di collaborazione tra pubblico e privato, secondo l'assessore comunale Maranella. Assessore c'è una buona notizia perché finalmente è arrivata la bonifica di un'area, quella vicino al benzinale di Piano Daccio che era parecchio attesa da diverso tempo. Sì esattamente, si tratta di un'area privata in cui il comune ha cercato un'interlocuzione direttamente con il privato che da subito si è mostrato assolutamente disponibile. Questo anche a dimostrazione del fatto che al territorio ci tengono tutti, ci dobbiamo tenere tutti quanti. Quindi è stata fatta una bonifica a suo carico, azzerando la situazione, insieme in collaborazione con la pubblica amministrazione si è cercato di recintare quell'area, quello spazio al di sotto del cavalcavia in ingresso poi in uscita verso Sant'Atto e contestualmente anche la sistemazione di fototrappole, quindi di un sistema di videosorveglianza che possa abbattere e contrastare tutto quello che è stato finora quel sito. Siamo molto soddisfatti perché è un'ottima collaborazione tra pubblico e privato, soprattutto nel ripristino ambientale che poi è ciò che deve essere di interesse per la collettività. È una battaglia contro gli incivili che va avanti perché purtroppo nel territorio comunale c'è ancora la mania in diverse zone di abbandonare rifiuti e non fare correttamente la raccolta differenziata, però vi state impegnando in tal senso? Assolutamente sì, di solito sono tantissimi controlli giornalieri che vengono effettuati sul territorio, molte sono le sanzioni che vengono elevate secondo quanto previsto dal codice dell'ambiente, quindi poi soldi che vengono dati alla provincia anche attraverso i quali riesce poi a bonificare le proprie aree di competenza, quindi diciamo che è un lavoro, mi permetto di dire, anche una collaborazione tra enti che serve ahimè purtroppo a punire coloro che si comportano male e forse per un'amministrazione l'ultimo dei desideri quello di punire, ma chiaramente laddove ci troviamo di fronte a reati di questo tipo perché l'abbandono è un reato ambientale non possiamo esimerci dal controllo. Proseguiamo e torniamo di nuovo a Chieti questa volta per parlare di un grande concerto perché ci ha attesa proprio per il concerto sold out di questa sera del duo Venditti e De Gregori all'arena La Civitella dopo l'annullamento della data del mese di luglio a causa del covid che aveva colpito il cantante Francesco De Gregori. Tutto pronto alla Civitella per il concerto di questa sera di Venditti e De Gregori, un duo che farà arrivare spettatori da tutto Abruzzo. Sì, siamo veramente molto soddisfatti, già la città inizia a essere gremita di gente, questo significa far lavorare le nostre attività commerciali, le strutture ricettive sono tutte quante piene tra hotel e B&B e questa sera ci sarà appunto questo evento molto importante presso l'arena della Civitella che ha previsto ormai già da parecchie settimane il tutto esaurito, quindi ci saranno circa 4 mila persone in città e sarà veramente un'occasione per l'economia delle nostre attività commerciali. Ricordiamo che la data era stata posticipata per un problema di salute di uno dei due cantanti, questa sera invece ci sarà spazio per ascoltare la loro musica e i loro brani. Sì, una tappa molto importante di questo tour unico nel quale si sono uniti due colossi della musica leggera italiana, quindi Antonello Venditti e Francesco De Gregori. La data, si ricordava, è stata posticipata per problemi di Covid che purtroppo ha contratto dello stesso De Gregori e invece questa sera ci sarà l'evento che è una delle poche date in Italia che terranno. Proprio a Chieti siamo soddisfatti, ripeto, perché oltre l'evento che ci assolutamente delizierà questa sera, ma è una, ripeto, una grande opportunità per l'economia della nostra città. E da Chieti ci spostiamo a Francavilla al mare dove si è aperta ieri la mostra Gente di Mare. 24 scatti selezionati che ritraggono i riti e le tradizioni della pesca. L'esposizione sarà aperta fino al prossimo 21 agosto e dal giorno successivo si sposterà a Giulianova. Salvaguardare e far conoscere il patrimonio culturale delle comunità dei pescatori e promuovere scambio di buone prassi tra le regioni coinvolte. E questo è il fine della mostra fotografica Gente di Mare, le tradizioni e il patrimonio della comunità di pesca. Inaugurata ieri è aperta a Palazzo Sirena Francavilla al mare fino al prossimo 21 agosto. L'iniziativa è stata promossa dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo in collaborazione con i tre flag abruzzesi e finanziato dal programma Interreg Europe 2014-2020 nell'ambito del progetto europeo Cherish. Una dedica alle comunità di pesca da parte del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo per valorizzare questa attività, la pesca locale che oggi incontra delle sfide sulla sostenibilità, sull'innovazione, sulla ricerca ancora molto importanti per migliorare le condizioni di lavoro e soprattutto la tutela del nostro mare. Sono 300 le foto pervenute da 9 paesi dell'Europa di cui 45 scattate in Abruzzo. Una giuria internazionale ne ha selezionate 5 per ogni regione europea e ora parte di esse, 24 gli scatti in esposizione, sono oggetto di una mostra itinerante abruzzese che consente di ammirare riti, tradizioni e strumenti della pesca. Dopo la tappa di Pescara, ora quella di Francavilla, poi sarà la volta di Giulianova dal 22 agosto all'11 settembre. Ora nel caso nostro è identitario i trabocchi, perché comunque sono strumenti per la cattura, almeno una volta si faceva la cattura del prodotto ittico da parte dei agricoltori, perché comunque la pesca non era molto sviluppata. Era soprattutto piccola pesca di piccole imbarcazioni che comunque lavoravano molto vicini alla riva e quindi alle spiagge. Quindi questa era un'innovazione che ha creato poi un brand che adesso è conosciuto un po' per tutto il mondo. Parliamo ancora di eventi, siamo a Pescara perché è stata presentata la 25esima edizione di Festival Musicarte nel Parco che si terrà dall'11 agosto al 19 ottobre. Musicarte nel Parco, 25esima edizione, assessore parliamo di arte, parliamo di musica, il suo assessorato è sempre attento a queste manifestazioni che coinvolgeranno tanti cittadini, manifestazione che si concluderà ad ottobre tra l'altro. Sì, è una manifestazione che festeggia le 25 edizioni ed è molto importante perché quest'anno è l'anno della ripartenza, lo stiamo definendo così già da tanto tempo, il fatto di poter ospitare presso le sale dell'Aurum questo evento così importante, fatto di tanti appuntamenti così prestigiosi, per noi è molto importante. Sono tanti gli eventi che state portando avanti come amministrazione comunale in questa lunga estate, eventi soprattutto di carattere culturale. Sì, abbiamo puntato molto sulla cultura proprio per ripartire, per dare un segnale di positività, un segnale di rinascita, un segnale di ripartenza nel vero senso della parola. Sono molto soddisfatta del fatto che tanti operatori culturali della città ci hanno seguito in questo progetto così importante. Ci tenevo a festeggiare il 25esimo anno di questa manifestazione perché è partita ben 25 anni fa al Parco di Villa Sabucchi, perciò si intitolava Musica Arte nel Parco, addirittura per volontà del sindaco Carlo Pace all'epoca. E mi ricordo Carlo Pace mi accontentò perché avevo quest'idea di rinnovare lo spirito del parco con la musica. Questa manifestazione è piaciuta tanto e quindi è durata tanti anni. Poi a un certo punto ci siamo spostati all'Aurum perché ci siamo insediati nel parco d'Avalos, quindi nell'ambito del parco d'Avalos. Poi per problemi di pandemia e anche altre piccole vicissitudini il festival per due anni è stato bloccato, ma comunque la musica non si ferma. Infatti le cose più importanti nella musica sono le note e le pause. Quindi dopo questa pausa le note sono ritornate e soprattutto entusiasmate queste note dall'entrata dell'assessora Maria Rita Carota che ha creduto in questa manifestazione che sicuramente lei già conosceva, così come anche il consigliere Armando Foschi. E quindi sono riuscita con pochissimo tempo, anche posso dire pochissime risorse, il Comune ha fatto il possibile. Siamo alla pagina sportiva, il calcio in particolare parliamo del Pescara e di mercato perché la società Bianca Azzurra ha chiuso l'accordo con l'Alessandria per l'acquisto a titolo definitivo del trequartista seconda punta Aristidi Colai, classe 99 italiano di chiare origini albanesi. Percorso inverso per il centrocampista Luca Lombardi che è arrivato dal Monza nell'ambito dell'operazione Sorrentino si trasferisce all'Alessandria in prestito. Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, Colai ha collezionato 56 presenze e 7 gol con la Pro Patria in Serie C dal 2019 al 2021 e lo scorso anno ha debutato in Serie B con i Grigi disputando 20 partite con un gol segnato. Il Pescara prosegue la sua ricerca del regista di centrocampo, resta bloccata la trattativa per Salvatore Aloide Lavellino, molto difficile il ritorno di Luca Palmiero sul quale ha messo gli occhi il Catanzaro. La squadra calabrese vorrebbe chiudere anche per un altro calciatore seguito dal Pescara ed ex della passata stagione, si tratta dell'attaccante Eugenio Dursi. Parliamo ancora del Pescara ma cambiamo argomento, non calcio giocato ma divise di gioco perché questa mattina la Pescara Calcio ha svelato le tre divise da gioco per la stagione prossima, la 2022-2023 realizzata da RA Sport. La prima maglia è caratterizzata dalle strisce verticali bianca-azzurre che nella circostanza si presentano sfumate verso l'alto con un particolare effetto spennellato. La seconda maglia, quella da trasferta, è rossa con due bande bianca-azzurre sul lato sinistro, colori ripresi anche nel bordo delle maniche e nelle fianchette laterali. La terza maglia è tutta blu scuro con righe verticali tono su tono sulle quali spiccano piccoli pixel in bianco. E noi restiamo a parlare ancora del Pescara, andiamo a conoscere un altro dei volti nuovi della formazione allenata da Alberto Colombo, si tratta del portiere della formazione abruzzese, il neoportiere della formazione pescaresa Alessandro Pizzari, arrivato a titolo definitivo dal Milan. Alessandro Pizzari a Pescara, mai in Serie C nella tua carriera, però questa sicuramente non è una diminuzione per te? No, è una chance di mettersi in gioco, il mio obiettivo è quello di mettermi in gioco e dimostrare il mio valore. Non è un problema a categoria, perché comunque il Pescara è una società di grande livello, quindi secondo me se parliamo di società non c'è Serie C, Serie B. Sei un giocatore scuola Milan, di te si parlava come un possibile nuovo buffone, poi forse c'è stato qualche problema, non si è riuscito a tenere fede a quelle che erano probabilmente delle grandissime aspettative? Ognuno ha il proprio percorso, io sono contento di fare il mio, sono contento di stare qua a Pescara, il Milan lo devo ringraziare perché mi ha cresciuto come uomo e tutto quello che sono adesso lo devo a loro, quindi un grazie enorme al Milan e adesso, come ho detto prima, mi metto in gioco, passo dopo passo, allenamento dopo allenamento, io voglio dare il massimo. Come è nata la trattativa che ti ha portato a Pescara? Tra l'altro sei stato acquistato a titolo definitivo dalla società Biancazzurra che punta fortemente su di te. Pescara mi ha cercato, io avevo una voglia amata di mettermi in gioco, di giocare, comunque di giocarmela con Daniele, quindi alla prima chiamata io ho detto al mio procuratore, va bene, non c'è problema, anzi sono contentissimo, dimmi quando posso andare giù e ci vado. Ecco, dicevi Pescara è una piazza importante. Ringrazio il direttore, il presidente e il mister per la fiducia. Come dicevi prima, arrivi in una piazza importante, una società ambiziosa, una tifoseria che vuole rivedere al più presto la squadra, almeno in Serie B. Io sicuramente non faccio pronostici perché, come ho detto prima, sono scaromantico, però posso dire che io come il gruppo daremo al 100% per fare il meglio possibile. Cosa ti piace di questo ambiente? Cosa hai apprezzato di più in queste prime settimane in Riva all'Adriati? No, poi devo ringraziare il mister, il team manager Francesco per l'accoglienza, anche il direttore e il presidente, perché ho trovato un gruppo molto coeso e mi ha fatto subito sentire uno di loro. Ancora calcio, parliamo del Teramo perché mancano poche ore alla scadenza del bando, aperto la scorsa settimana dal comune di Teramo per individuare un progetto sportivo che possa dare seguito al calcio, ripartendo dal campionato nazionale di Serie D. Illizza due cordate che ora dovranno dare seguito al loro interessamento, inviando entro la mezzanotte di oggi la proposta al sindaco attraverso canali ufficiali. Una proposta che preveda la realizzazione di una neonata società e l'aver ottemperato di una serie di adempimenti, come da indicazione del bando stesso. Le cordate fanno riferimento, una all'ex presidente del Chieti Antonio Mergiotti, l'altra all'imprenditore romano Luciano Ponzuoli, affiancato da imprenditori locali, tra le quali Filippo Di Antonio. In caso di due proposte sarà poi il sindaco, coadiuvato da una commissione guidata dall'avvocato Gianni Gebbia, ad individuare quella migliore da sottoporre all'attenzione della Federcalcio. Un responso che potrebbe essere comunque congelato in caso di ricorso di Teramo Calcio SRL al Consiglio di Stato, atto che lascerebbe ancora aperto uno spiraglio per la riammissione in Serie C del Teramo. Siamo giunti al termine della prima edizione del TG6. Vi ricordo i prossimi appuntamenti, come sempre, alle 19 e alle 23. Grazie per il momento. L'augurio di un buon proseguimento di giornata. Grazie per la visione.